Musica Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura torniamo ad occuparci della questione Grande Pescara. Il processo di unificazione dei comuni di Spoltore, Pescara e Montesilvano, sembra sempre più complicato e sembra procedere sempre più lentamente. Anche il capoluogo adesso chiede di poter avere più tempo per esaminare il progetto di fusione. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti. L'amministrazione comunale di Pescara ha cominciato un percorso in commissione anche su questo tema, con le altre forze di opposizione, naturalmente con quelle di maggioranza. Ha chiesto solo un piccolo rinvio di 20 giorni. Naturalmente questo risale a prima di Natale, quindi intorno al 20 gennaio potremo essere pronti. Tenendo conto che la città di Pescara in questo momento ha approvato piano triennale delle opere pubbliche, a breve, tra qualche giorno approverà il bilancio e poi ci sono dei consigli importanti che riguardano anche la storia del mercatino dell'integrazione. Quindi sono tanti punti all'ordine del giorno di questo Consiglio comunale. Qualche giorno in più, purché sia soltanto qualche giorno in più, certo non mi sembra un grandissimo problema. Noi siamo convinti che tra il 20 e il 25 gennaio riusciremo a dare il nostro parere, che è un parere naturalmente obbligatore ma non vincolante, e che prevederà, insomma è facile prevedere questo, anche delle osservazioni che verranno fatte dal Consiglio comunale di Pescara al Consiglio regionale che dovrà esaminare la delibera. Io dico una cosa, mi sembra, forse un po' anche da un punto di vista del destino, che a 90 anni dall'unificazione tra Pescara e Castellammare, le perplessità che accompagnano questo progetto, che non sono le perplessità dell'amministrazione Alessandrini, che è tutta schiacciata e favorevole naturalmente alla nuova Pescara, sono un po' le perplessità che c'erano una volta quando si unificavano tra di loro, cioè 90 anni fa circa, quando si unificavano tra di loro Castellammare e Pescara, cioè piccoli interessi a fronte invece di un grande territorio che possa affrontare le sfide del futuro. Andiamo avanti adesso la cronaca. La squadra mobile dell'Aquila ha individuato il trentenne aquilano responsabile della violenza sessuale consumata a Natale ai danni di una giovane di 21 anni. Il giovane, dopo averla stuprata, come conferma anche il referto medico, l'ha abbandonata seminuda in un posto isolato vicino a Lago Sinizio, a San Demetrio. Vediamo il servizio di Daniela Rosone. È stato individuato dalla squadra mobile dell'Aquila l'autore della violenza sessuale avvenuta alla vigilia di Natale. Nella serata di ieri, 3 gennaio 2017, la squadra mobile, sezione reati contro la persona, all'esito di articolate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica dell'Aquila, ha notificato ad un giovane trentenne aquilano, autore della violenza sessuale di cui è stata vittima una ragazza, anch'essa originaria del capoluogo abruzzese, nella notte tra il 23 e il 24 dicembre, il provvedimento del divieto di avvicinamento alla parte lesa, emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo abruzzese. Le indagini della mobile sono state avviate nella stessa serata della vigilia di Natale, allorché, al termine della denuncia, la giovane ha fornito la ricostruzione di quanto subito, confermata anche dal referto medico emesso dall'ospedale San Salvatore dell'Aquila, aggiungendo agli investigatori della questura di essersi trovata in uno stato di semi-incoscienza, in seguito alla consumazione di due drink. La ragazza, nel corso di una serata trascorsa in un locale dei dintorni dell'Aquila, assieme ad un'amica, ha conosciuto un giovane che, al termine della serata, l'ha invitata a seguirlo, sebbene la vittima si sentisse stato confusionale. Il trentenne, una volta salita a bordo della propria auto, la vittima si è addiretta in un posto isolato nei pressi del lago di Sinizzo, dove ha costretto la giovane a subire un rapporto sessuale, abbandonandola immediatamente dopo, seminuda, in un posto isolato. La giovane è stata ritrovata dall'amica, che nel frattempo, avendola persa di vista, ha iniziato a cercarla, contattandola sul proprio smartphone, rimasto all'interno dell'auto del violentatore. In seguito alle numerose chiamate senza risposta inoltrate verso il cellulare della ragazza, lo stesso trentenne ha richiamato l'amica della vittima, indicandogli dove l'aveva abbandonata e portandosi lui stesso sul posto per restituire gli indumenti e il telefonino della giovane, 21enne. Le indagini condotte dalla mobile sono arrivate ad una svolta circa l'identità dell'autore della violenza tra il giorno di Natale e Santo Stefano, allorché, grazie ad una serie di testimonianze di persone che si trovavano nel locale nella notte tra il 23 e il 24 dicembre, è stato possibile risalire all'identità del giovane trentenne e anche alla vettura in disponibilità, descritta dalla vittima e dai testimoni con dovizia di particolari relativamente al colore e alla nazionalità tedesca della casa automobilistica del veicolo. Il veicolo in cui è avvenuta la violenza è stato sequestrato dalla mobile sul delega della Procura della Repubblica in attesa che la scientifica faccia tutti gli accertamenti tecnici tesi a rilevare tracce biologiche nel veicolo. In seguito, nei giorni di Natale e Santo Stefano, gli investigatori della mobile, coordinati dal dottor Tommaso Niglio, hanno sottoposto in visione alla vittima e ai testimoni un album fotografico dove è stato riconosciuto dalla vittima il giovane trentenne come autore della violenza subita e dai testimoni la persona che si è allontanata dal locale con la ragazza. Adesso cambiamo argomento, andiamo in regione Abruzzo dove si è svolto un tavolo tecnico per la questione erosione della costa di Francavilla. Il Comune, sfruttando un finanziamento regionale da 950 mila euro, ha presentato un progetto che ricalca quello ricama per la costruzione di pennelli nella zona nord del litorale di Francavilla, progetto che però dovrebbe essere sottoposto a valutazioni di impatto ambientale. Nella riunione di ieri in regione Abruzzo, la presenza dei tecnici e del presidente della regione D'Alfonso, oltre che del sindaco di Francavilla Antonio Luciani, la ditta napoletana vincitrice dell'appalto si è impegnata a presentare degli approfondimenti tecnici per capire se ci sia la possibilità di evitare il passaggio al comitato via per consentire così l'avvio immediato dei lavori per la mitigazione dell'erosione costiera. Un problema molto sentito dagli operatori turistici che anche questo inverno, a causa delle forti mareggiate, hanno praticamente visto sparire l'arenile letteralmente divorato dall'acqua. In attesa degli approfondimenti, la riunione è stata aggiornata a fine mese per capire come far procedere l'iter dell'appalto. Il sottosegretario alla giunta regionale con delega all'ambiente Mario Mazzocca ieri a Lanciano ha esposto i punti caratterizzanti del nuovo piano di gestione dei rifiuti varato dalla regione Abruzzo prendendo a modello Ecolan, società gestita da 53 comuni soci della provincia di Chieti che sarà oggetto anche di un finanziamento da 12 milioni di euro per migliorare l'impiantistica dedicata al riciclo e all'economia circolare. Vediamo. Investimenti, numeri, obiettivi, progetti. Il nuovo piano regionale di gestione integrata dei rifiuti che è arrivato a più di dieci anni dall'approvazione del precedente piano al termine di un'ampia attività di incontri con i portatori di interessi articolata mediante il lavoro di sei tavoli di consultazione e una trentina di assemblee pubbliche è stato presentato a Lanciano dal sottosegretario alla presidenza Mario Mazzocca con Ecolan esempio virtuoso da seguire che beneficerà anch'esso di importanti risorse. Lo scorso 12 dicembre il Consiglio regionale ha dato il via libera alla legge il nuovo piano prevede azioni e progetti finalizzati alla riduzione degli sprechi nel ciclo produzione e consumo e intende promuovere ogni sforzo organizzativo verso rifiuti zero e diffondere una maggiore consapevolezza degli utenti sul concetto rifiuto uguale risorse. Una delle importanti conseguenze dell'approvazione della legge sarà quella di far uscire la Regione dalla procedura di infrazione dell'Unione Europea per mancato adeguamento del piano regionale gestione rifiuti prima che vengano combinate le sanzioni. Mario Mazzocca Stiamo realizzando oltre 200 facetti di raccolta, piattaforme ecologiche, c'è il riuso, interventi di sostegno a realtà pubbliche importanti e virtuose come ad esempio qui nell'Ecolan a Lanciano qualcosa come 30 milioni di euro di investimento che si stanno realizzando che è solo una parte del nuovo piano di gestione dei rifiuti che noi attendevamo da oltre 10 anni e che ha una caratteristica particolare ovvero quella di aver scelto come unica strada quella del perseguimento dell'economia circolare quindi l'abbandono di ogni ipotesi di incenerimento dei rifiuti stessi. Andiamo avanti con il nostro giornale Adesso parliamo di parcheggi perché 859 stalli di sosta presso il centro commerciale Megalò di Chietiscalo diventeranno a pagamento Questa è la decisione assunta dall'amministrazione comunale teatina che sta creando molte polemiche Vediamo insieme Tra qualche settimana i parcheggi di Megalò diventeranno a pagamento Sindaco di Primio una decisione che sta creando qualche polemica qualche malcontento Come mai avete deciso di fare tutto questo? Chi si sente non contento e chi vuole fare polemica è libero di farlo ovviamente Ritengo che l'amministrazione sia altrettanto libera di adottare dei provvedimenti che sono provvedimenti che rientrano nelle proprie competenze e che non vedo perché non scandalizzano quando c'è un'area assosta a pagamento per esempio nei centri storici non vedo perché un'area di proprietà comunale che si trova in quell'area commerciale non possa essere messa a pagamento quindi non ci trovo proprio nulla di strano Ricordo peraltro che a differenza di come succede spesso nelle città dove c'è penura di parcheggi in quell'area abbiamo quasi 3.000 posti auto Se gli 800 posti auto del comune vengono messi a pagamento è una cosa che è nelle corde delle possibilità dell'amministrazione lo ha deciso anche il TAR che è possibile che si faccia e quindi non trovo proprio nulla di strano che ciò avvenga le tariffe tra l'altro non saranno particolarmente onerose e quindi non peseranno più di tanto su chi decide di andare a fare i propri acquisti o di recarsi a megalò per altri motivi allo stesso tempo chiedo a quelle persone che oggi tanto si scandalizzano perché non si scandalizzano quando ci sono parcheggi a pagamento in tutte le parti d'Italia in tutte le città d'Italia e soprattutto nei centri storici Quando diventerà esecutivo il provvedimento e quanto si pagherà? Stiamo provvedendo adesso a definire sia le tariffe che l'affidamento L'affidamento sarà fatto in gestione in house cioè direttamente con una nostra società dobbiamo ancora definire se l'affidamento verrà fatto per il tramite di Chieti Solidale che è un ente strumentale del comune o teatri servizi che è una società partecipata dal comune e le tariffe ovviamente terranno conto del fatto che lì si tratta di una lunga sosta e non c'è necessità di quel ricambio che invece viene richiesto nei centri storici Restiamo in tema parcheggi il sindaco di Roseto di Girolamo chiede scusa ai cittadini sulla questione della proroga dei parcheggi a pagamento in città la fiducia che mi avete dato e il mio carattere mi impone di restituirvi onestà oltre che di fatti anche mentale scrive in una nota il primo cittadino rosetano perciò continuo assento il dovere di chiedere scusa per la confusione che si è ingenerata e per ogni disagio e ogni momento di incertezza che si è creato nella collettività il sindaco ha voluto rimarcare che da parte dei componenti della giunta non c'è stata malafede le scuse, dice ancora il sindaco sono dovute perché presi dalle costanti emergenze si è stati improvvidi e intempestivi lo scorso 2 gennaio negli stali a pagamento della città riverasca era stato corretto a Pennarello il periodo di proroga delle strisce blu allungato con un'ordinanza avvenuta però solo nel primo pomeriggio di ieri quindi di fatto rendendo inefficace la scritta apparsa il 2 gennaio quando ancora non esisteva l'ordinanza che dava esecutività al provvedimento ordinanza che però reca anche una data di proroga errata al 28 febbraio dello scorso anno cioè il 2017 l'amministrazione ora è chiamata a mettere a punto il bando per l'individuazione del nuovo gestore entro i due mesi annunciati dal vice sindaco Simone Tacchetti proseguiamo con il nostro giornale adesso apriamo la pagina dedicata agli eventi dell'Epifania tutto pronto per la grande fiera di domani all'Aquila attese circa 30.000 persone anche da fuori regione controlli e tante aspettative da parte dei commercianti del capoluogo anche perché domani iniziano i saldi nel servizio tutti i dettagli organizzativi è tutto pronto per la settantesima edizione della tradizionale fiera dell'Epifania che si svolgerà domani venerdì 5 gennaio saranno 330 a fronte di 504 richieste le bancarelle che daranno vita alla settantesima edizione accontentati anche gli ambulanti di Piazza Duomo che dopo qualche polemica saranno messi negli spazi a Piazza Duomo oltre le casette di legno e la pista di patinaggio messa per il periodo natalizio la manifestazione che si conferma uno degli appuntamenti più attesi dell'anno è frutto di un lavoro di squadra che vede insieme il Comune attraverso gli assessorati al commercio e alle opere pubbliche il Corpo di Polizia Municipale la Protezione Civile la FIVA Commercio e l'Azienda per la Mobilità Aquilana le 330 bancarelle si snoderanno lungo Viale Gran Sasso Piazza Battaglione Alpini Viale Malta Viale Castello Viale Tagliacozzo Via Zara Via Vittorio Veneto Via Luigi Signorini Corsi Via Tedeschi Piazza San Bernardino Corso Vittorio Emanuele Piazza Duomo e Corso Federico II ci saranno anche bagni chimici e posizioni di soccorso come di consueto la Polizia Municipale ha istituito nelle zone interessate il divieto di sosta su entrambi lati con rimozione forzata dalle 20 del 4 gennaio alle 23.30 del giorno seguente L'Ama, l'azienda della Mobilità Aquilana ha organizzato anche un servizio di bosnavetta per il 5 con partenza ogni 15 minuti dalle 9 alle 21 lungo Piazza Italia Via Piccinini Via Lecorrado IV Via Lecorrado IV Via Panella Via Silone parcheggio supermercato posto di fronte al cimitero monumentale Via Cencioni Via della Crocetta Tunnel di Collemaggio Terminal Collemaggio Via Lecorremaggio Via Lecrispi circuito Collemaggio e al ritroso Via Cencioni Via Silone Via Panella Via Lele della Croce Rossa Via Beato Cesilio e Piazza Italia è necessario munirsi di biglietto ma saranno comunque validi gli abbonamenti L'Ama rende noto che il servizio di linea resterà invariato con l'esclusione delle fermate previste per la Fontana Luminosa e intanto il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi ha disposto attraverso un'ordinanza la sospensione delle attività dei cantieri pubblici e privati operanti nel centro storico per la giornata di domani in occasione della fiera la disposizione è finalizzata ad agevolare le attività organizzative di coordinamento e svolgimento della manifestazione nonché a garantire le necessarie condizioni di sicurezza e pubblica incolumità Ancora eventi per la Befana illustrata questa mattina in una conferenza stampa la ventitresima edizione del presepe vivente di Chieti che si svolgerà appunto sabato 6 gennaio Siamo alla ventitresima per noi mi credo è sempre difficile andare avanti perché abbiamo 22 gruppi quest'anno e quindi ringraziamo il Dio per questo però i giovani sono un po' restii e gli anziani sono un po' vecchi però abbiamo ridotto il presepe anche i partecipanti ne saranno circa 300 i partecipanti e diciamo così che noi la nostra soddisfazione è quella innanzitutto perché ci teniamo in quanto è un ricordo religioso rappresentiamo qualcosa che rammenda al popolo quello che era la natività ma ci teniamo anche perché sono ormai 23 anni che l'associazione di Atenostra fa questa manifestazione e vorremmo portarla avanti ancora per altri 23 anni il futuro non si può ipotecare però speriamo che l'amministrazione comunale i gruppi la città anche la città venga a partecipare con noi abbiamo dei gruppi anche extra cittadini che hanno il presepe di teatro nostro il presepe vivente è stato il primo in Italia adesso non mi fate dire che non voglio essere però ai tempi in cui il presepe itinerante di Chieti era il primo in Italia adesso lo hanno copiato un po' tutti qualcuno ha più possibilità di noi e quindi può darsi sia anche più bello noi andiamo avanti con le nostre possibilità però le amici associazioni dei paesi qui intorno ci tengono a venire a partecipare e questo è buono adesso andiamo a Teramo presentato il calendario della memoria 2018 la quarta edizione di questo calendario nato su progetto dello SPCGL di Teramo il LabMete Laboratorio della Memoria del Territorio in collaborazione con la FPCGL è stato realizzato da alcune classi della scuola pubblica primaria del territorio provinciale sotto la guida di docenti ed esperti i 12 mesi dell'anno ricreano attraverso l'attività di conoscenza e di rappresentazione dei bambini avvenimenti significativi della storia repubblicana con particolare attenzione al diritto al voto sancito con il suffragio universale questo è un progetto che è ormai alla quarta edizione è un progetto intergenerazionale che vuole mettere insieme gli anziani i pensionati i giovani i bambini in questo caso e per quest'anno hanno il progetto ha approfondito uno dei diritti sanciti dalla carta costituzionale visto che quest'anno poi è il settantennale della carta il 2018 ed è il diritto al voto il diritto al voto come si è esplicitato il diritto al voto al femminile quindi non solo i ragazzi hanno individuato le prime donne che si sono candidate nei vari consigli comunali a partire dalle prime elezioni amministrative del 1946 e poi via via fino ai nostri giorni quelle donne che si sono candidate elette sono state elette nei consigli comunali e poi hanno assunto anche un ruolo di responsabilità politica istituzionale e sono diventate sindache quest'anno per la prima volta abbiamo deciso di regalare a questi bambini che sono stati alle classi ai insegnanti ai dirigenti degli istituti comprensivi di tutta la provincia che hanno partecipato di regalare uno spettacolo teatrale per bambini la compagnia è una compagnia molto nota il teatro pirata di Iesi in provincia di Ancona lo spettacolo è molto intrigante poi si collega al tema di quest'anno la Repubblica è donna e il titolo dello spettacolo è Musi Lunghi e Nervitesi e a proposito di spettacoli torniamo agli eventi della Befana sabato 6 e domenica 7 a Rocca Santa Maria nella provincia Teramana si svolgerà l'evento la Befana della Laga fra i boschi e i monti della Laga per l'appunto i visitatori saranno accolti nella casa della Befana e potranno vivere un percorso teatrale che trasporterà adulti e bambini nella magia degli antichi mestieri in programma anche animazione musicale mercatini e menu a base di piatti tipici l'evento è organizzato dalla DMC Gran Sasso Laga e dalla Proloco Martesi in collaborazione con il comune di Rocca Santa Maria e il contributo dell'ente parco nazionale del Gran Sasso e dei monti della Laga l'ente parco che si mette in prima persona ad appoggiare il territorio cosa che veramente è un segnale importante noi che abbiamo diciamo così fatto da tradunione tra comune Proloco ente parco per poter organizzare gli eventi che alla fine sono quello che gli visitatori vedranno e quindi potranno avere un'esperienza bella in un posto bello come Rocca Santa Maria e vedendo la Befana nella sua casa e vedere quello che cosa c'è noi siamo contentissimi del fatto di poter aver partecipato insieme sia al comune che la Proloco e soprattutto all'ente parco di poter fare questo evento insieme a loro abbiamo la bottega delle arti dove specialmente i bambini potranno vedere gli artigiani al lavoro preparando questi giocattoli eccetera il villaggio della Befana che è un po' il centro il fulcro dove ci sarà tutto con i mercatini e il punto di ristoro il viaggio in carretto dove faremo fare le esperienze i bambini di accompagnare la Befana nel suo viaggio e ovviamente la casa dove ci sarà la Befana che li riceverà e gli farà vedere come vive la sua e adesso apriamo la pagina dello sport partiamo chiaramente dalla Serie B e quindi dal Pescara è ufficiale la cessione di Pigliacelli che passa alla Provercelli mentre quello di oggi dovrebbe essere il giorno decisivo per un'altra partenza importante quella di Simone Andrea Gans infatti l'attaccante è ad un passo dall'accordo con Lascoli la trattativa dunque è quasi conclusa ma mancherebbe soltanto l'ok del giocatore che è stato davvero poco utilizzato da Zeman in questa prima parte di campionato vediamo insieme il servizio di Jacopo Forcella quella di oggi sarà la giornata che con ogni probabilità definirà ufficialmente l'addio di Simone Andrea Gans al Pescara l'attaccante infatti è un passo dall'Ascoli per una cifra che dovrebbe aggirarsi sul milione e 800 mila euro per l'acquisto a titolo definitivo si conclude dunque un'esperienza che sembrava a dover essere la stricata di gol e soddisfazioni per l'ex Como e che invece si è chiusa nel peggiore dei modi solamente 5 le presenze per Gans che Zeman non ha mai davvero considerato parte del progetto biancazzurro complice anche l'esplosione di pettinari in zona gol ieri il direttore sportivo a Scolano Cristiano Giaretta ha incontrato a Milano l'agente FIFA Luca Pennacchi cura gli interessi del giocatore per conto del Reset Group di Davide Lippi le parti si sono lasciate positivamente anche se ci sono da limare ancora dei dettagli il presidente Sebastiani aveva escluso ogni tipo di forma di cessione in prestito e tutto sommato il Pescara realizza un introito che sarà destinato verso altre operazioni manca ancora il placet dell'attaccante che nelle prossime ore comunicherà la sua decisione ma a proposito di altre operazioni la prima è quella che riguarda l'esterno offensivo del Palermo Carlo Sembalo che nelle intenzioni del club sembra aver superato Eder e Falco ma c'è da battere la concorrenza della Brescia per il Rosanero l'attaccante classe 94 vuole giocare con continuità e ha chiesto al Palermo attraverso il suo agente Beppe Accardi di cambiare aria come peraltro già accaduto la scorsa estate lo stesso procuratore spinge per la soluzione Pescara il Delfino è forte bisognerà trovare adesso però l'intesa con il Palermo l'insidia per Gianni Saggi invece arriva dalla Turchia perché sul centrocampista romeno della Fiorentina figlio d'arte si è affiondato nelle ultime ore il Galatasaray club per cui ha giocato e allenato il padre Gheorghe sempre in mediana Ulibali potrebbe andare subito all'Udinesi a quel punto il Pescara dovrebbe andare alla ricerca di una mezzala per sostituirlo e regalare a Zemano un'alternativa in quella zona di campo la vera emergenza però per il Delfino in difesa considerata anche la partenza di Sendardo e quella di Campagnaro e Biancazzurri hanno fatto un tentativo con l'Inter per Bastoni che Nerazzurri avevano già acquistato dall'Atalanta nulla da fare ma per Graviglione invece c'è più di qualche chance altri addi saranno quelli di Latte Latte che tornerà all'Atalanta Selassi poi Baez ufficiale intanto l'approdo di Pigliacelli alla Provercelli che in una lunga intervista ha voluto chiarire alcuni punti della sua esperienza a Biancazzurra sul mio rapporto con il presidente Sebastiani ha detto Pigliacelli nulla da dire da parte sua ho percepito sempre una grande stima sia tecnica che umana purtroppo quello che mi è capitato quest'anno a Pescara va oltre l'aspetto calcistico perché troppe volte è stato tirato in ballo il lato personale cercando di mettere in cattiva luce l'uomo oltre che la professionista per cui questa cosa non sono ancora riuscita a mandarlo giù nella trasferta di Empoli continua Pigliacelli ad insaputa di tutti e con grande stupore generale senza darmi alcuna spiegazione direttamente nello spogliatoio e davanti a tutti i compagni e lo staff tecnico Zeman mi dice questa frase va in tribuna io tanto è lo stupore rimango impassibile a tutto e gli rispondo ok e tutti i compagni ne possono essere buoni testimoni da quel momento in poi si è creato un insieme di inesattezze falsità notizie non vere intorno ai miei comportamenti dalla mia persona al punto di essere messo in cattiva luce sia a livello nazionale che soprattutto a Pescara dove chiunque mi incontrasse sia agli allenamenti che in giro per la città o allo stadio si sentiva libero di potermi insultare pensando che avessi fatto qualcosa di male contro il Pescara e la sua maglia Zeman è il responsabile dello staff conclude Pidiacelli ma secondo me gli sono state riferite alcune cose inesatte e sono stati ingilantiti alcuni momenti che potevano essere gestiti diversamente con maggiore elasticità dunque questo il punto in casa del Pescara adesso lasciamo la serie B scendiamo di categoria andiamo in serie C ovviamente per parlare del Teramo sono giorni di attesa in casa biancorossa per le decisioni sul mercato e per l'inizio delle manovre di acquisto ma soprattutto di cessione le trattative stentano ancora a decollare perché come ammette lo stesso direttore generale Capaldi il diavolo deve vendere prima di poter acquistare nuovi giocatori sentiamo l'intervista realizzata da Agna Cantagalli direttore con lei non entriamo nel merito delle scelte tecniche perché ovviamente aspetta ad altri ma cosa può fare il Teramo in questo mercato di gennaio quali risorse ci sono effettivamente per operare io comunque sono tifoso del Teramo quindi le scelte tecniche mi piacciono no no per quanto riguarda il campionato ripeto la Gennaio è pur sempre un altro campionato noi siamo consapevoli e conscii di questo fatto quindi dicevo prima a qualche altro suo collega che abbiamo le idee molto chiare ma chiaramente per entrare qualche giocatore deve andare via necessariamente qualcun altro però siamo consapevoli di questo fatto abbiamo fatto già delle scelte adesso non ne possiamo parlare perché stiamo in questi giorni facendo le riunioni e quindi quando abbiamo la certezza la contezza soprattutto economica di qualche situazione lo faremo un giudizio finora del campionato giocato dal Teramo comunque è soddisfacente sì è soddisfacente perché mi pare di ricordare che su 21 partite l'anno scorso i punti sono state 19 adesso le partite sono 18 e i punti sono 21 quindi diciamo abbiamo migliorato questo range per quanto riguarda i punti sono molto soddisfatto dello staff della squadra è chiaro che tenendo presente che a oggi il campionato inizia tutt'altra cosa e quindi è chiaro che qualcosa dobbiamo promettere mi spaventa che chi sta alle spalle sta provando a rinforzarsi tipo il Sondarcangelo che cerca ad esempio i giocatori di Serie B ma a gennaio chi si rinforza di più significa sbagliato tanto a luglio io credo che tutto sommato noi siamo contenti del gruppo è chiaro che a volte si fanno delle cose per far cambiare aria a qualcuno sia per quanto ci riguarda sia per quanto riguarda altre società però ripeto noi siamo contenti soddisfatti tra qualche giorno faremo qualcosina e poi vi diremo e questo era l'ultimo servizio per quanto riguarda il nostro giornale io vi ringrazio per averci seguito prima di salutarvi vi ricordo che tutti i nostri servizi sono disponibili sulla pagina Youtube della nostra emittente e anche sul sito www.tv6.it grazie ancora buona giornata a tutti i nostri a tutti i nostri a tutti i nostri